formano la più antica società segreta del mondo sono i massoni nel corso della loro storia sono stati sospettati di ambire al dominio del mondo di aver fomentato le rivoluzioni in Francia, Inghilterra e America di aver rubato il tesoro di Re Salomone per finanziare i loro piani demoniaci Ancora di più